Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Da 5 Field Cup siamo arrivati al terzo turno e non mancano le partite decisive. Stiamo per guardare insieme una partita di attacco molto particolare. Io per esempio non avevo mai visto un setup di apertura del genere. Di bianco abbiamo il giovane Ferugia, di nero il veterano Aronian. Non dimenticate di like al video, partiamo. All'Ireza Ferugia apre la partita con E4. Levon Aronian, giocatore classico, risponde con E5. Cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in C4, quindi siamo nelle partite italiane. Alfiere in C5, linea principale. C3, o arrocco corto, le due continuazioni principali del bianco. Ma Ferugia ha in mente qualcosa di diverso. Gioca D3, cavallo in F6, non C3, ma H3. E allora qui sbaglia, secondo me, Aronian ad arroccare subito. Gioca, infatti, arrocco corto. E per quale motivo ha arroccato prima del bianco? Si poteva tranquillamente giocare D6, che ottenuto è una mossa molto più flessibile. Allora, guardiamo a Ferugia come si muove. Cavallo in C3, cavallo in A5, attacca l'alfiere, ma lascia la difesa del pedone. Ora, Ferugia questo pedone non lo catturerà. Come mai? Perché dopo, cavallo che cattura in E5, quindi in caso di immediata, cavallo per alfiere, il bianco riprende, ha vinto un pedone. Eppure il computer vede una novità molto interessante. Al posto dell'immediata cattura, donna in E7, e credo che Aronian avesse in mente proprio questo, attacca il cavallo, e allora va difeso con D4, ma qui con alfiere in B4, il nero ha trovato la parità. E allora, dopo cavallo in A5, e qui il bianco perde la coppia, ma addirittura Firugia gioca A3. A3 per giocare B4, e allora cavallo per alfiere, il pedone di ricattura, al nero gli è rimasto il pedone sotto attacco, Aronian gioca D6. Alfiere in G5 sviluppa ed inchioda il cavallo sulla donna, e allora arriva alfiere in E6 che attacca il pedone, donna in D3 difende il pedone e libera la strada per l'arrocco lungo. E' per questo motivo che ha fatto male Aronian ad arroccare subito e quindi a dare subito un bersaglio. Allora H6 è sicuramente buona, fa bene il nero ad attaccare l'alfiere, l'alfiere rimane sulla diagonale che inchioda il cavallo, e siamo arrivati ad un momento importantissimo di questa partita. Ricordiamoci che il bianco non ha ancora arroccato, e molto probabilmente arroccherà a lungo, con questo cavallo in F6 inchiodato, una delle minacce del bianco quale può essere? Salto del cavallo in D5, che è il secondo attacco, che praticamente costringe il nero a perdere, quindi a cedere la coppia degli alfieri, in questo caso l'alfiere chiaro, il bianco ricatturando ha pure rimigliorato la struttura pedonale. Allora in questa posizione C6, che è un ulteriore controllo, che non lo fa saltare il cavallo in D5, è sicuramente buona, e invece Aronian gioca G5, che è un grosso rischio. Perché guardate che succede, sacrificio di cavallo per due pedoni, ma non due pedoni qualunque, i due pedoni dell'arrocco, cavallo per pedone in G5, il pedone in H ricattura, alfiere cattura in G5, il cavallo per ora non si schioda più, re in G7 libera anche la torre, ma è la seconda difesa, prima addirittura di arroccare lungo, arriva F4. La minaccia è terribile, perché la minaccia è di cambiare e di portare la torre in F1, e allora bisogna che Aronian catturi col pedone in F4, cavallo in E2 attacca il pedone, C6 adesso serve a poco perché arriva B4. Alfieri in E3, per ora, non permette al bianco di arroccare, ma qui arriva torre in F1, e come mai? Perché già qui c'erano due attacchi sul pedone, e ma Firuja vuole mantenere bloccato il nero, mantenendo l'inchiodatura sul cavallo, e quindi ricatturerà, per questo porta la torre, ricatturerà il pedone col cavallo, e allora re in G6 attacca l'alfiere, e ma qui arriva H4, e il pedone ora cade, e Firuja catturerà in F4, e poi che cosa farà? Andrà a vincere anche il cavallo in F6. E allora Aronian è disperato, rende subito il pezzo per cercare di prendere l'iniziativa, alfiere per pedone in C4, e qui attacca la donna, bisogna catturarlo, donna che cattura in C4 arriva a D5. Ora naturalmente bisogna che il bianco, che ha l'attacco, non si faccia cambiare le donne, quindi qui non cambia, perché sennò si centralizza la donna del nero, quindi Firuja non cambia col pedone in D5, sposta la donna in B3. Torre in E8 attacca il pedone, ma qui arriva alfiere per pedone in F4, e quindi l'alfiere due volte sotto attacco, costretto a catturare in F4, il cavallo cattura, ricattura il pezzo in F4 con scacco, re in H7, Firuja ha arroccato lungo. E allora Aronian cattura col cavallo in E4, fermiamoci un attimo, perché il materiale è pari, ma il bianco ha il re al sicuro, mentre il nero ha il re, totalmente scoperto. 27 minuti per arrivare alla buono di tempo della quarantesima mossa per Firuja, solo 18 minuti per Aronian, perché ricordiamoci siamo solo alla ventitresima mossa, Firuja ci pensa 5 minuti perché vede qualcosa in questa posizione, ma non trova la combinazione vincente. E voi? Siamo arrivati al nostro quizzone, che non è facile per niente, mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo subito a noi, vedete questo pedone che oltretutto porta alla cattura di torre con scacco, e allora cavallo in H5 è già una mossa vincente, ancora più forte il sacrificio del cavallo in D5. Un cavallo che va accettato sicuramente, perché ci sono due minacce, e allora C per D5, la torre cattura in F7 con scacco. Addirittura è un problema capire dove è meglio spostare il re. Re in G6 sembra una delle idee migliori, la torre cattura il pedone e attacca la donna, oltretutto la torre difesa a raggi X, allora il nero catturerà, molto probabilmente, di donna in F4. Donna in F3 protegge la torre e minaccia matto in 2, donna in F5 con scacco, re in H6, torre in H7 sorretta dalla donna a scacco matto, e allora gli scacchi della donna nera servano a poco, perché arriva addirittura torre in D1 che copre con tempo, donna in H6 con scacco, solo adesso re in B1, donna in G5 a coprire F5, ma il raddoppio delle torri su la colonna D è micidiale, perché sta arrivando torre in G7 con scacco. e la partita finisce qui, anche se il nero naturalmente è sposto da donna, perché c'è sicuramente la rete di matto. Ritorniamo a noi, cosa fa il buon Firuja? Una cazzata, gioca a cavallo in E2, è vero che attacca con la torre F7, ma praticamente se Aronian difende in maniera attiva con torre in E7, mai spostare questo pezzo che era il suo più forte, allora il nero addirittura rientra in partita e invece Aronian è troppo passivo, gioca a cavallo in D6, donna in D3 con scacco, re in H8, donna in D4 con scacco, guardate come questi scacchi di donna migliorano sempre, questa donna la avvicinano, creano questa rete, re in H7, cavallo in G3, donna in B6, e le donne quando si ha l'attacco non ci vanno fatte cambiare, donna in D3 con scacco, re in G8, cavallo in F5, si vuole eliminare il cavallo? Perché il re è sempre più scoperto senza questi pezzi, cavallo per cavallo, la donna ricattura, minaccia oltretutto la cattura con scacco in F7, donna in E3 con scacco, il re si sposta in B1, donna in E6, protegge di nuovo, vuole il cambio donne, allora per questo motivo vedete Firuja non dà lo scacco di donna dalla colonna G perché il nero gli piazza la donna davanti, allora torna indietro con la donna in F2, A5, torre in D3, questa è la solita manovra che vediamo sempre, questa torre che prende l'ascensore e poi si sposta sul terzo piano, allora A per B4, non c'è bisogno di ricatturare subito perché torre in G3 arriva con scacco, re in F8, torre in F3, terzo attacco, due difese, come mai Aronia non giocherà torre in E7, perché ha paura di donna in D4, e allora, che poi sull'ottava è micidiale, allora re in G8, ma il pedone è perso, torre per pedone in F7, torre che cattura il pedone in A3, torre in F8 con scacco, re in H7, donna in F7 con scacco, porta al cambio donne, ma dopo il cambio donne il bianco vincerà la torre, Aronian abbandona, vediamo come, e ora qui il cambio donne è forzato, e ma qui dopo donna per donna la torre cattura con scacco, e anche se il re si sposta minacciando la torre, quindi per adesso non si può vincere questa torre, e arriva la semplice deviazione H5 con scacco, il re catturerà, perché anche se si sposta della stessa cosa, e il bianco vince la torre in E8 con finale semplicemente vinto. Una partita molto particolare, secondo me, ma sta di fatto che Firugio si mette in tasca il punto pieno, io spero proprio che vi sia piaciuta, fatemelo sapere nei commenti, non dimenticate di iscrivervi al canale, vi lascio finalmente dopo tre turni la classifica aggiornata al terzo turno in descrizione sotto al video, grazie tante per l'ascolto e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto!